Ciao, che cosa ci fai qui? Ciao, io volevo solo ringraziarti per l'aiuto che hai dato a Castle e Alexis. Questo potevi farlo anche per telefono. D'accordo, dimmi tutto amica mia, dimmi che cosa hai in mente. Non è strano che Alexis si sia rivolta a tutti tranne che a me, per il caso? Non si è ancora rivolta a Permatter? Già, beh, nessuno lo fa se è possibile evitarlo. Non devi prenderla sul piano personale. No, lo so, è che... Castle e io stiamo per diventare una famiglia e questo è già di per sé strano. E lui e Alexis hanno una storia personale che non ha niente a che fare con me. Ho la sensazione che quando avranno qualche problema, io mi sentirò sempre esclusa. La famiglia perfetta non esiste. Sarai tu che dovrai trovare un modo per far sì che il tuo passato possa unirsi a loro. Sta a te creare la tua storia personale. La famiglia è stata un'altra cosa. No, lo so. Lo so. Le so.